Buongiorno, noi siamo a 7 settembre, sto facendo la pasta qui dei panni, ho fatto un antipasto, guardate che bello, che sarebbe prosciutto, l'ova ripiene, le salette a ferroni, oggi sono di meno, ce l'ha tutta, questo poi l'ha tutta, vino, è tutto, vedete, bello, da 5 minuti lo romanzano, ah, ho fatto le frappe oggi, vedete, le frappe, tutte pulissime, dolce, anche un'altra cosa, di piccolina, ritratto bene? Sperate, sono io, ciao Giulia, e va bene, adesso sulla carne ritorno, vediamo qua, la carne, la carne, il fritto, vedete? La carne, la carne, si tratta bene, è, fa parte un po' che pasta, perché c'è antipasto, carne, dolce, mamma mia, quanta cosa, quindi i portini più belli, eh, spana, è, mamma mia, che rosa, Grazie a tutti. Grazie a tutti.